Bene amici di Blog Androidiani, un saluto a tutti i nostri lettori ed amici. Quest'oggi vi presenterò un simpatico gioco presente sul market Android dedicato ai nostri device Android che sta riscuotendo davvero un tantissimo successo ed ha comunque delle valutazioni davvero molto positive. Passiamo subito alla presentazione del gioco in questione. Allora, vediamo un po'. Si tratta di, eccolo, Bunny Shooter. Avviamo la nostra app, il nostro gioco. Benissimo. Schermata iniziale con musica. Play, score, io vado direttamente in gioca. Questa è una versione gratuita con un AD Sense presente. Sono arrivato a livello 5 e ho sbloccato alcuni livelli. Vi faccio vedere dall'inizio, dal primo livello. Una piccola introduzione con immagini in stile Angry Birds, anche se direi che lo stile di gioco è simile a quello di Angry Birds. Benissimo. Vi fa vedere una piccola presentazione del gioco, ma io direi di saltare. Ora, allora, in cosa consiste il gioco in questione? Abbiamo questo arco qui sulla sinistra con cui dobbiamo cercare di centrare i conigli presenti nel nostro campo di gioco. Chiaramente ci saranno dei piccolini da risolvere o possiamo effettuare comunque, possiamo ammazzare i nostri conigli con dei sotterfugi tipo questo, lanciandogli appunto l'incudine in testa, spezzando la corda. Abbiamo chiaramente, come in questo caso, cinque munizioni con cui dover uccidere tre conigli. Chiaramente prendiamo la mira e andiamo a posizionarsi in modo da poter uccidere i nostri conigli. In maniera semplice, ecco. Abbiamo superato anche il secondo, perché chiaramente i primi livelli sono sempre semplici. Per poi diventare un santino più difficile, infatti, dunque adesso sono riuscito ad uccidere due conigli. Va bene, qui mi chiede di effettuare una valutazione del gioco, se è divertente. Ecco, qui vediamo tre conigli con cui vediamo se riesco ad uccidere due, infatti, sono riuscite. Il gioco è davvero molto simpatico, è di un stile Angry Birds e sappiamo che la soluzione, lo stile di Angry Birds ormai, è una soluzione di uno stile vincente. Ovviamente, ecco qui, dovremmo riuscire ad uccidere tutti i conigli con un unico colpo. Non ce l'ho fatto. Ecco i due. Benissimo. Ci sono riuscite. E chiaramente, andando avanti, vediamo che lo stile di gioco diventa sempre più complicato. Ecco. Anche qui, ammazzato con una serie di carambole e sotterfugi, anche qui il nostro coniglietto. Bene, facciamo, proviamo quest'altro livello. No. Facciate un piccolo settore. Bene, direi che con questo è tutto. Un saluto, alla prossima. Un saluto da Blog Andrejani. Ciao.